e perché chiaramente ieri rappresenta la storia anche della nazionale iberica rappresenta anche un immagine molto pulita del rischio nella difesa della La Spagna con l'orsa di Cristiano Ronaldo contro Tecchietti No! Diego Costa si porta il pallone sulla sinistra Poi ancora sulla testa Diego Costa incroci Guedes Cristiano Ronaldo La conclusione Tatto in area di U Palla che spunta La Spagna con il canaccio Che aveva causato Un canaccio Ha guadagnato Ronaldo No! Eh? Non lo so? Dia San Marco Awww